Con Marco Bonura ci ritroviamo a distanza di pochi giorni, una chiacchierata oggi c'è poco da dire, un campionato soddisfacente, alla fine più che positivo, qualche piccolo rammarico, io ho detto a Lorenzo Manzi probabilmente che questo Follonio Gavorano è mancato il classico bomber da doppia cifra pesante, però poi una doppia cifra è arrivata, è stata quella di Giustarini. Sì, oggi con questa tripletta è arrivata in doppia cifra, quindi siamo contenti anche per lui, poi anche lui l'ha fatto un po' con la vella, un po' con noi, quindi anche un altro ragazzo è andato in doppia cifra, per quello che riguarda l'andamento del campionato, l'ho detto tante altre volte, l'ho detto a te e anche ai tuoi colleghi, che c'è un po' di rammarico perché questa squadra secondo me poteva far meglio, ma a livello forse di punti, perché abbiamo lasciato qualche punto per strada, un po' per sfortuna, un po' magari per colpa nostra e per quello che ha dimostrato, quindi ripeto c'è un po' di rammarico, però nello stesso tempo c'è anche la consapevolezza che abbiamo fatto direi un buon campionato, condito da questi playoff che dobbiamo fare domenica e soprattutto la finale di Coppa Italia. Io credo che tu debba fare un plauso ai tuoi ragazzi perché oggi hai mandato quelli che normalmente giocano di meno, fra l'altro ha fatto eserdire un 2006 come crete che è stato positivissimo, hanno risposto presenti tutti quanti, hanno dimostrato voglia, c'era anche la possibilità di poter magari superare l'Arezzo qualora l'Arezzo avesse pareggiato o perso e adesso direi testa appunto alla semifinale contro l'Arezzo. Sì sì, hai detto bene, oggi i ragazzi hanno dimostrato l'attaccamento anche alla maglia, la voglia di far bene fino alla fine perché sono partite queste dove magari mentalmente può lasciare qualcosa e magari cappi in brutte sorprese, invece i ragazzi hanno fatto bene. E' risordito oggi anche un ragazzo crete come detto dal 2006, siamo ben felici perché il settore giovanile sta facendo bene, stanno facendo un buon lavoro di sotto e per quello che riguarda adesso la Coppa Italia penseremo chiaramente dopo e adesso bisogna pensare come detto l'Arezzo dove ci giochiamo tanto come loro e chiaro che è una partita totalmente diversa dalla Coppa Italia perché noi siamo costretti a vincere. E quindi se non i 90 minuti nei 120 quindi sarà una partita innanzitutto bella da vedere, bella da giocare, bella da affrontare, sono stati importanti quindi contro una squadra forte però lo siamo anche noi, saremo pronti tutte e due squadre e penso che venga una bella partita. Per concludere due parole da spendere da parte tua verso lo Sport Interest l'anno scorso la grande stagione con te alla guida, ai play-off e quest'anno comunque è un campionato positivo, certamente non ci sono sette reti di differenza, oggi è una partita direi perfetta, ogni tiro ha una rete e io credo fossero venuti qua con un altro spirito. No, no, è chiaro, io per quello che riguarda il campionato che hanno fatto quest'anno è assolutamente positivo perché è una società che comunque guarda i giovani, quindi guarda, per quanto riguarda l'obiettivo del 3 è sempre stata salvezza, quest'anno penso che l'hanno centrata ampiamente, fino a qualche mese fa, un paio di mesi fa erano in quinti, dopo hanno usato probabilmente anche una politica diversa cercando di far valorizzare un po' i giovani loro, è chiaro che poi oggi sono un po' le partite dove per certi versi sette gol e due a digerirle, è chiaro che probabilmente loro l'hanno affrontato un po' magari inconsciamente, un po' più leggera rispetto a noi, noi in effetti oggi come andavamo giù riuscimmo a fare gol e dopo è chiaro che le partite dopo quando si incanano in certi binari fa anche fatica a riprendere, quindi sono incappato così in una giornata sorta ma ripeto, nulla toglie al campionato che hanno fatto, io sono legato chiaramente a livello emotivo sia ai ragazzi che alla società, quindi posso che fai i complimenti perché è una società che comunque penso che 10-12 anni che sta in Serie D, società seria, quindi fanno il passo sul secondo la gamba, riescono a ottenere sempre i loro obiettivi, l'anno scorso chiaramente abbiamo fatto qualcosa di straordinario, però penso che anche quest'anno hanno fatto un buon lavoro. Io ti faccio di nuovo complimenti, in bocca al lupo soprattutto poi per questa playoff e per la Coppa Italia e poi ci rivedremo. Va bene, crepi e grazie a voi.